In questa puntata spazio soprattutto a Gemma Galgani. La dama ha chiuso la conoscenza con Maurizio, con il quale non è scattata la scintilla, e oggi potrebbe conoscere un nuovo cavaliere. Si tratta di un signore di Caserta che l'ha seguita da tempo in tv. Gemma deciderà di farlo rimanere e quindi inizierà la loro conoscenza. Spazio poi a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che dovranno fare i conti con i commenti di Tina Cipollari. I due ex fidanzati si sono concessi un appuntamento per provare a ricominciare. La storica opinionista sarà scatenata. Ci sarà realmente un ritorno di fiamma?